bella a tutti ragazzi qui è Lion e siamo in un nuovo video di Clash of Clans e... allora, oggi vogliono far vedere il mio villaggio dicono alcuni miei amici che sono scarso però credo che non sono così tanto scarso e per ora tengo il municipio fuori anche se è un poco difeso per farmi tante risorse ora un'ora fa abbiamo dichiarato guerra questo è il mio clan su what io lo odio invece grazie ad una fortuna di essere contro un clan scarso è proprio bellissimo voglio vedere il primo come cazzo è solo che non riesco a vederlo e me ne sbatto la macchina ora me l'ho fatta ora mi ha fatta entrare vaffanculo allora io credo che lo può battere solo una persona cioè il mio capo perché sono tutti e due così combinati in questo mondo comunque allora ritorniamo nel mio villaggio anche se io uso molto lo scudo anche se ho 10 scioli di scudo attacchiamo dai mi manca cosa sono cinque cosa c'ho io cosa c'ho cosa c'ho cosa posso attaccare minchia mi sembro arcieri 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 facciamoci arcieri cinque arcieri cinque arcieri comunque vi voglio dare un consiglio per le gemme perchè tutti che con le gemme modi per accalarsi il gioco quando vedete questi i tronchi i cespugli e queste cose se voi li li rimuovete eeeh può essere che vi danno delle gemme tipo io mi son fatto 52 gemme solo con queste cose eeeh allora cos'è che mi sa vuole mi sto facendo il canone a livello 9 live serie a livello 3 che me la sono comprata l'altro ieri e questo è a livello 5 va bene dai attacchiamo cazzo mi sa ne ho lo scudo devo attaccare cazzo uuuu allora si può fare si può fare da dove attacchiamo perchè c'ha parecchi soldi facciamo una cosa una cazzata attacchiamola qua mettiamo una furia poi attacchiamola qua quando è bellissima adesso mettiamo un'altra furia dai distrincete questo bastardo mettiamo un drago due draghi tre draghi mettiamo un bummè qua mettiamo vai dai dai ci mostra dai dai ce la potete fare io so che ce la potete fare sentite quella di miseria attacchiamo un po' allora che bimbo minchia ma vaffanculo dai vaffanculo attacchiamo intelligenza perché i draghi hanno l'intelligenza alcune volte in autosferica allora si può dire che ho vinto e cazzo mi sono preso tutto oro dai era 3000 era 300.000 ora c'ho quanto sono però la diversa idea mi pare un po' imbambita però buon per noi dai distruggete sto cazzo di cose non ci riesco a distruggere davvero il culo quanto la cazzo dai sei tutti noi distrutto si grande dai cazzo vabbè guardate ci riuscite a fare sto coso sto risultato no solo io posso allora mai già l'ho data in ritardo mi si dia allora addestriamo i draghi io c'ho i draghi i pecca non me li faccio perché no perché non c'ho l'elisir ma lo potrei anche fare però ho accettato un consiglio dal mio amico cioè dal mio capo del clan e mi ha detto che non mi conveniva allora non lo facciamo è sempre così tre draghi giganti accei sono sceso il trofeo allora questo è il mio clan di Davidita questo è shark in pratica il capo è quello che sta con me nel canale io e lui siamo quello è il canale di The Boys of South già il primo video l'abbiamo fatto solo che per problemi non non possiamo fare ancora non l'abbiamo non l'abbiamo caricato questo è uno che odia anche se è un mio compagno di classe lo devo sopportare mi sta così sul cazzo che lo vorrei ammazzare visto dice non mi attaccano mai siamo troppo forte guarda quanto sei forte ma vaffanculo poi per favore nei commenti dite chi è più forte io o sto stronzo vi faccio vabbè vi faccio vedere a shark che poco tempo fa quando abbiamo fatto il primo video era in un modo ora è cambiato assolutamente ora non è fortuna è se ha fatto una si è modificato qualcosa magicamente ora è diventato così l'arcieri regina degli arcieri è fatta la raffinata vabbè lui è proprio forte di suo è molto forte lo ammiro anche perché anche ci arriverà un giorno come è lui ora mi sarà difficile però potrei riuscire solo che lui lo ammiro perché non so come minchia fa ma cazzo per diventare così avere molta bravura comunque allora il video termina qui ho dovuto sprecare il mio scuro dieci ore però me ne è spattata la minchia allora il video finisce qui se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale alla prossima bella raga ciao